Saluto! Cittadini, benvenuti ai giochi in nome del nostro imperatore, il divino Tiberio. Noi li dedichiamo alla sua gloria e alla gloria di Roma, di cui fate tutti parli. Si ha reso onore a chi corre per noi. Ma come stai facendo? Eh, perché altrimenti non si allunga. Ma tu hai detto che è più triste che è l'orme? No, aspetta, dobbiamo arrivare lì? Così? Sì, beh. No, è troppo dura l'orme mia. Dai. Però tu hai detto che la piangono. Oh, come lo fa? Poi mi ha messo davanti io il giampo. No! Mi ha messo il giampo io. Il giampo con quella... E io mi siedo! Tu ti hai detto che la piangono, la piangono. So, Rana, tu ti sei lì sulle bottiglie. Io ti ti ambo su, tu ti sei lì sulle bottiglie. Io ti ti ambo su, tu ti sei lì sulle bottiglie. Quattito? Mmmmmm, mmmmmm, mmmmmm. Quattito, non è che le togliamo, poi? Non, tu sai, non è che le togliamo. Non, tu sai. La corsa delle friggere La partiamo così Aspetta, la corsa delle friggere E friggere io la partiamo giù 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 Ma la partiamo giù La partiamo giù Oh! Guarda che bristia! Dai, dai! Forza che li prendi a entrare uno! Ma che è?